Quando parliamo di cesanese siamo sempre portati con la mente a pensare che ovviamente il cesanese del Piglio sia qualitativamente il più importante perché è una DOCG. Non è così in realtà, anche perché il territorio che riguarda le tre denominazioni è un territorio abbastanza circoscritto, quindi qui diventa fondamentale capire quello che è il suolo, quelle che sono le esposizioni ma soprattutto la visione del vignaiolo. Andiamo nella zona di Olevano Romano, il comune di Olevano Romano insieme a quello di Genazzano che compongono insieme appunto la denominazione sono tra i territori più antichi in assoluto per la produzione del cesanese. Qui troviamo infatti anche produttori moderni che sono già la quarta o quinta generazione, troviamo molti più produttori rispetto agli altri due territori appunto legati a questo vitigno. Non possiamo generalizzare quando parliamo comunque di questa denominazione perché i suoli che comunque compongono la zona dei Monti Simbluini sono molto eterogenei. Abbiamo la componente vulcanica, quella argillosa, quella calcarea, abbiamo presenza di marne, in alcuni punti appunto la terra si manifesta come terra rossa perché si fanno più importanti le presenze di ossido e di ferro, quindi generalizzare diventa veramente difficile. Fatto sta che c'è un legame così profondo che qui troviamo addirittura proprio tutti gli stili possibili e immaginabili. Quando parliamo di cesanese in funzione di Olevano Romano abbiamo la possibilità di lavorare però su tutte e due i biotipi, quindi sia sul cesanese da file, che oggi comunque è quello più utilizzato dai produttori che vogliono fare qualità, che è cesanese comune, insieme o distintamente per un minimo dell'85% all'interno del blend, quindi ci abbassiamo di circa un 5% rispetto alle altre due denominazioni. Questo però non vuol dire che oggi i produttori lavorino così, appunto di solito si va sempre nella direzione del 100% proprio per valorizzare al massimo questo vitigno. La caratteristica che potremmo individuare, ma anche qui potrebbe essere in realtà un errore dichiararlo in questo modo perché vanno viste quelle che sono poi le caratteristiche del suolo, le esposizioni, è quella di un tannino che è leggermente più ruvido, più facile da riconoscere al palato, però anche qui la mano del produttore ha un ruolo fondamentale. La caratteristica invece proprio del territorio è quella di essere compresa tra i 250 e 650 metri di altitudine, di avere da un lato i monti che proteggono comunque dai freddi venti del nord e dalle possibili gelate e l'apertura della valle invece verso i venti che provengono dal tirreno. Quindi forse delle tre aree questa è quella assolutamente più mediterranea, sia nel clima che nell'influenza appunto marina. Spesso e volentieri qua su Olevano Romano riusciamo a trovare anche delle espressioni leggermente più floreali, più fini, più a volte anche sussurrate proprio del cesanese. Ci sono anche alcuni dei produttori più più conosciuti in Italia in realtà perché troviamo Marco Antonelli, troviamo Riccardi Reale ma soprattutto Damiano Ciolli di cui poi andremo a parlare che è diventato un caso di successo da inizio secolo e forse se il cesanese è diventato così famoso anche all'estero lo dobbiamo probabilmente a Damiano. In questo territorio abbiamo comunque delle pendenze interessanti che permettono quindi indipendentemente dal sistema di drenaggio del suolo però di far scorrere acqua quindi non abbiamo una umidità troppo elevata. Perché parlavamo di Damiano Ciolli? Intanto Damiano riesce ad esprimere la parte di terra rossa, mettiamola così, quindi quella che ci immaginiamo sempre quando parliamo di cesanese. Quel tipo di suolo è quello che caratterizza principalmente i suoi vigneti che oggi sono intorno ai 6 ettari. L'azienda di Damiano in realtà è un'azienda che ha una storia, Damiano rappresenta la terza generazione, il nonno produceva vino. Damiano si ricorda proprio quei momenti quindi c'è un legame fortissimo con il passato. Il padre stesso era produttore e quando ereditò l'azienda dal nonno continuò appunto a produrre ma seguendo un po' di più il mercato quindi spostandosi in direzione di vitigna bacca bianca che tanto piacevano in quel periodo. Sarà Damiano nel 2001 a iniziare a intraprendere proprio un percorso di rivalutazione del cesanese e lo farà andando a lavorare su un ettaro di vigneto rimasto intatto ad alberello tra l'altro, quindi un cesanese allevato ad alberello, un'unicità, una vigna del 1953 addirittura, quindi una vigna con circa 50 anni, una vigna vecchia che lo spingerà ad andare a produrre il suo primo cesanese che poi sarà un cesanese riserva quindi il cirzium, un cesanese che oggi vede il passaggio in cemento e poi il passaggio in barrique per un vino che ovviamente ha volume. Ricordiamoci che la denominazione ci permette di andare a lavorare sia sulla versione secco diciamo classico sia su una versione superiore dove il contenuto alcolico si fa più importante e poi su una versione riserva dove abbiamo 24 mesi di invecchiamento necessario di cui sei mesi almeno in bottiglia. Qui esistono però anche la versione amabile, la versione dolce ma soprattutto la versione frizzante dolce che ovviamente esalta quelle che sono poi le note un po' di mandorla che possiamo trovare. Ma perché è diventato così importante tornando a Damiano Ciolli la sua azienda? Beh non è tanto per la riserva che comunque è stata una rottura incredibile, un vino fatto alla perfezione, profondo, denso, elegante, con un tannino ammorbidito dal tempo ma anche dal lavoro che è stato fatto in vigna. Parliamo comunque di un produttore che poi si è affiancato anche con la compagna Letizia con un'impronta che vira verso il naturale quindi senza l'utilizzo di chimica cercando di lavorare sempre in modo molto molto pulito e netto mettendo quindi in evidenza proprio quelle che sono le bellissime caratteristiche del cesanese cercando quindi di rivalutarlo al massimo proprio nelle sue espressioni anche floreali. Ed è qui che arriviamo perché il vino che ha decretato il grandissimo successo di Damiano Ciolli in realtà è Silene che è la sua versione potremmo dire di ingresso, fermentazione in acciaio e poi un passaggio in cemento prima di andare in bottiglia quindi non si utilizza barrique assolutamente. Questo è un vino le cui uve provengono da vigneti più giovani perché gli impianti vanno dal 1981 fino ai primi del 2000. Quindi è un vino che poi è stato pensato nel 2002 proprio per esaltare questa componente floreale tant'è che Silene il nome stesso fa riferimento a un fiore che si trova poi nelle campagne romane. Però è il profumo di peonia forse che lo caratterizza principalmente. Avendo lavorato soltanto in acciaio e poi cemento si riesce a mantenere intatta proprio quella fragranza, quella freschezza, quel floreale molto interessante che in realtà il cesanese può portare. Abbiamo delle punte di viola, abbiamo poi questi leggeri richiami alla macchia mediterranea che ben si sposano anche con quel concetto che avevamo visto per cui questi vigneti si prestano e non poco ad essere battuti proprio dalle brezze provenienti dal tirreno. Quindi l'influenza del Mediterraneo qui in realtà anche se in minima parte però si fa sentire. Il risultato su Silene è però sorprendente soprattutto al palato perché abbiamo l'ottima sapidità che delle terre rosse ci possono offrire, la componente di ferro poi ovviamente dà una spinta in più al vino da questo punto di vista, ma la cosa incredibile è il tannino. È forse una delle espressioni in assoluto di cesanese con un tannino più delicato. È vero che è un tannino quello del cesanese che spesso e volentieri tende a ammorbidirsi già in gioventù, però qua a volte abbiamo un tannino che potrebbe essere leggermente più ruvido soprattutto se è lavorato in questo modo. E invece no, è esattamente l'opposto. Abbiamo un tannino che è delicatissimo, che è presente, badate bene, si fa sentire ma è delicatissimo. Silene quindi risulta un vino super scorrevole, facile da bere e forse in assoluto tra i cesanese più freschi che possiamo incontrare, più snelli, più smarcanti sotto ogni punto di vista, quindi un cesanese che non è assolutamente da meditazione ma che è proprio al suo opposto. Non ci deve stupire se poi addirittura nel 2020 per Silene sono arrivati i riconoscimenti da parte prima del Gambero Rosso che gli ha attribuito tre bicchieri e poi anche della guida a Bibenda che gli ha dato cinque grappoli. Però sono tantissimi in realtà i premi che Damiano Ciolli è riuscito ad avere e non ci deve stupire, sottolineo ancora una volta, che sia Silene questo cesanese, qualcuno potrebbe dire atipico, invece è super tipico ad aver conquistato il palato dei tanti appassionati in giro per il mondo.